Oggi su Teco Films siamo arrivati ai titoli di quota Ok ok però non così in fretta Benvenuti su Teco Films, lo show che rende il videomaking accessibile a tutti Giusto un paio di info prima di iniziare Prima di tutto oggi stiamo quasi arrivati alla fine di questa terza stagione La prossima puntata purtroppo sarà l'ultima Vi posso però anticipare che sarà una puntata davvero un pochino differente dal solito Però niente spoiler Nel frattempo durante questa stagione vi abbiamo dato suggerimenti di tantissime cose Su come girare una scena, illuminare vari soggetti in differenti situazioni Come montare e creare effetti e tante belle cose Dato che oggi siamo in tema di conclusioni Vediamo un po' come completare alla grande un video con dei classici ed eterni titoli di coda Però 12 secondi di teoria prima I titoli di coda, a differenza di quelli di apertura Hanno lo scopo di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla produzione del vostro corto film E dico, tutti Cioè, incluso anche quel vicino di casa che vi ha prestato la scala O il barista che vi ha permesso di girare nel suo locale Ora, secondo il mio personalissimo gusto Ci sono due grandi tipologie di titoli di coda E si applicano sempre, secondo me, in due situazioni piuttosto differenti In genere, quando facciamo un cortometraggio o una puntata di una serie tv Le persone che partecipano possono essere piuttosto ridotte Spesso alcune volte anche meno di 10 Quindi realizzare un titolone a scorrimento in pompa magna per pochi nomi potrebbe essere eccessivo Ciò che invece sarebbe più adeguato ed elegante, secondo me, è un bel titolo fisso Quindi che non scorre con i nomi delle persone che hanno dato il loro giusto contributo Vediamo molto semplicemente come fare con Premiere Pro Ma come ormai dico ogni volta, qualunque programma che sappia gestire il testo andrà bene Quindi premiamo CTRL più T per creare un nuovo titolo Gli diamo un nome perché noi siamo dei signori E premiamo OK Ora si sarà aperta la schermata per lavorare il testo Quindi andiamo in alto a sinistra e selezioniamo lo strumento Testo Con il mouse trasciniamo e creiamo quindi una casella di testo Un po' come facciamo su Office Word, PowerPoint e tutti quegli altri programmi Ora selezioniamo un font, possiamo andare sia sul classico, sul moderno Dipende dal genere del film che abbiamo fatto E quindi iniziamo a disporre in questo modo i nomi dei partecipanti Per rendere le cose più eleganti ed evitare di fare un solo elenco Creerò 4 o 5 schermate uguali E per fare un esempio, su una magari metto solo gli attori Su un'altra solo gli addetti alla ripresa Su uno gli editor, sugli altri colorist e la gentaglia degli effetti Su uno i tizi a audio, musica ed infine gli eventuali produttori E tanto vale anche il regista Senza dimenticare i ringraziamenti speciali alle vostre mamme E se invece avete fatto un film Probabilmente ci sarà più gente coinvolta E quindi ci sarà una soluzione più pratica E che se avete mai visto un film E sfido il contrario Conoscerete ben troppo, fin troppo Lo stile di cui stiamo parlando Per realizzare questi famosi titoli a scorrimento Come prima Su Premiere Pro creiamo un nuovo titolo Solo che prima di tutto dobbiamo cliccare su questa iconcina Che ci permetterà di modificare le opzioni di scorrimento Quando si apre la finestrella Spuntate la seconda voce Scorrimento verticale E cliccate ok E per fare le cose al meglio E animare automaticamente il testo Per scorrere verso l'alto Quindi sempre nelle opzioni di scorrimento Spuntate inizia fuori schermo E termina fuori schermo E fate sempre ok Volendo potete anche giocare Con le funzioni di ingresso e di uscita graduale Se avete voglia di sperimentare Ora non ci rimane che con molta cura e pazienza Scrivere tutti quanti i nomi dei partecipanti Riguardo lo stile Come nell'altro caso Vi suggerisco un font elegante Pulito Che sia di facile lettura Una buona idea sarebbe scrivere Il nome della persona in grassetto Mentre la loro mansione No Così da creare un discreto contrasto Tra nomi e ruolo E rendere tutto più facile da leggere A questo punto chiudiamo il pannello dei titoli E nella timeline importiamo il testo Per rendere più o meno veloce lo scorrimento dei nomi Vi basta allungare o restringere la durata del titolo nella timeline Et voilà Titoli cinematografici in pochi click Questo tipo di effetto vi può ovviamente essere utile Ogni volta che volete un qualunque titolo che scora Sia in verticale ma anche in orizzontale Ad ogni modo Anche per oggi è tutto Spero davvero di avervi dato nel corso di queste puntate Spunti e idee per stimolare la vostra creatività E realizzare progetti unici Come sempre se vi fa piacere Mandateci sulla nostra pagina facebook I link dei vostri lavori Così da vederli insieme E poterne discutere Nel frattempo Noi ci rivediamo la prossima volta Per darvi il giusto congedo A questa meravigliosa terza stagione Quindi non ci rimane altro che dire Questo è Teco Films Io sono Daniele Voi fate bevi Noi ci rivediamo la prossima